Questa velocissimamente, proprio... Quanto fa? 1090 più 10? 1090 più 10? Veloce, veloce! 1090! No, no, scherzavo! Quanto fa? Eeeh... 1090... Time! Sono Serafino, randazzo dei sempliciotti con l'alloro. Mi trovo a Mondello, vedete il Charleston alle mie spalle. Oggi ci sono stati 2000 gradi, la gente si è buttata a mare e chissà se il sole ha fatto male a qualcuno. Andiamo a intervistare le persone per vedere Serafino, randazzo... Il padre di Giuseppe ha tre figli, qui, qua, iu, oh, qua, iu, eh? Come si chiama l'altro figlio? Qua! 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 Perah! Padre Giuseppe ha tre figli, qui, qua! Ma manda! Berlusconi ha la mano lo usa, Renzi ha il lungo, il ragazzo. te lo promette! Papa te lo mette! Cosa è? Il pane! È cos'è? Un aereo parte dall'Italia per arrivare in Germania Su quest'aereo c'è una donna incinta che partorisce proprio quando l'aereo è al confine tra l'Italia e la Germania Di che nazionalità sarà il bambino? Tempo stringe 2000 No no scherzavo Musulmano la risposta esatta è musulmano No no scherzavo Riusciranno questi due baldigiovani a pronunciare gli scioglilingue impronunciabili delle interviste mostruose Allora iniziamo con 33 trigri contro 33 33 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 36 37 37 38 38 39 39 Grazie a tutti Grazie a tutti Dopo i monumenti, compa, che cosa ci può essere? Mi trovo qui in compagnia di Piero Angia Chi è Piero Angia? No, per me è... No, bagianate così penso io Per me è... No, è morto Non vi sedete accanto a lui perché è pericoloso Non puzzano, non puzzano Ah, non puzzano, vanno lento I got my ticket for the long run You bought a whiskey fart away And I speak to you with a boo No, you want to know for the long run I got my ticket for the long run No, I got my ticket for the long run No, I got my ticket for the long run And I got my ticket for the long run Grazie a tutti.